Ha chiamato un killer come avevi previsto. Appuntamento al parco. Il segnale è una rosa rossa. Che romantico. Cosa fai? Semplice. Faccio una telefonata ad un amico. Sono io. Come vuole cambiare il posto? Ci ho ripensato. Il parco non è molto adatto e cambierò anche il segnale. Cosa? Beh, veramente... Capisco, d'accordo. A me sembra che sia un po' troppo vistoso. Bene. E anche la fase 2 è andata in porto. Domani prenderò il posto di Falco. Sei stato un attore assolutamente strepitoso. Voglio il piso. Guardi, signorina, che io sono il segretario del signor ministro. Quello ha chiesto un miliardo. Basta. Adesso basta. Andiamo al lavoro. Se trovo chi ha avuto l'idea di questo scherzo, giuro che lo uccido. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie.